La mente non è un vaso da riempire ma un fuoco da accendere, lo diceva Plutarco, lo conferma quasi per destino la Kits University, un format ludico e didattico tra i pochi dello stivale che tenta con successo un'abbina tardita, quella tra università e giovanissimi. Dal 14 al 24 settembre torna a Verona l'appuntamento firmato dall'Ateneo Scaligero che ha il preciso intento di far sperimentare il piacere della conoscenza ai più piccoli. Oggi sono state svelate alcune novità della terza edizione, tra queste il Family Lab, una variegata rosa di possibilità per condividere anche in famiglia l'esperienza della scoperta. L'università aprirà dunque le sue porte ai ragazzi dagli 8 e 13 anni ad aspettarli 40 laboratori tenuti da docenti impegnati nel mondo della ricerca e 21 workshop a cura invece dei tanti partner. Il denominatore comune rimane la scintilla della curiosità che anima i bambini e che spinge la ricerca ad oltrepassare i suoi confini. Perché bisogna prenderli da piccoli, dico io, il piacere della conoscenza è il sottotitolo di Kits, ovvero l'idea che si possa insegnare in modo rigoroso però senza rinunciare ad una giocosità. Direi uno stile democratico di comunicazione e sapere a cui l'università è sempre più chiamata. Un compito piacevole che l'Ateneo Scaligero realizza in collaborazione con Pleia di Science Farmer, ricchissimo il calendario tra laboratori, eventi, workshop e momenti di riflessione, incursioni al Museo di Storia Naturale e all'Acquario di Gardaland incluse. Appuntamento irrinunciabile rimane la cerimonia finale anche detta la Doctor Kids che vedrà sfilare i piccoli ricercatori pronti a ritirare il loro diploma davanti al Rettore.